buon sabato a tutti cari seguaci ho il piacere di ripresentarvi la allung queen box una box in edizione limitata offerta da www.queenbio.com al prezzo promozionale di 25 euro il valore commerciale di questa box è di 50 euro conterrà prodotti a sorpresa di diversi brand presenti sul sito www.queenbio.com tra i quali prodotti di make up prodotti per la cura del viso e accessori vi è la possibilità di personalizzare questa box dopo l'acquisto tramite un questionario per capire il vostro tipo di pelle le vostre esigenze il costo totale e quindi di 25 euro più 3 euro e 90 di spese di spedizione la box acquistabile fino al 31 10 2017 fino alle 23 59 e la spedizione avverrà entro e non oltre il 6 novembre 2017 vi consiglio di affrettarvi perché questa promozione sta andando veramente forte i pezzi disponibili sono soltanto 20 ora non so con esattezza quanti pezzi sono rimasti ma so già che ne sono stati venduti un bel po per cui mi raccomando avete ancora quattro giorni di tempo potete addirittura regalarla basta cambiare l'indirizzo quando quando effettuate l'ordine dal sito www.queenvio.com il sito è questo qui troverete la box nell'area novità allo queen box vedete è disponibile aggiungi al carrello poi se volete vedere le informazioni cliccate su più cliccate su più e qui ci sono tutte le informazioni che io vi ho riportato nei vari post che sto pubblicando dopo l'acquisto se volete condividere l'acquisto con noi potete farlo tramite i vostri vostri social potete utilizzare questo hashtag qui allo queen box in modo tale che così vediamo tutti insieme i contenuti delle nostre box questo è il packaging del del pacchetto come vedete proprio in tema di halloween questa è una delle scatoline proprio in tema di halloween veramente carinissima quindi se volete fare un regalo a voi stessi oppure a qualcun altro per halloween questa è una bella occasione mi raccomando affrettatevi perché vi ripeto visto il prezzo promozionale di 25 euro il valore commerciale di 50 sta andando veramente a ruba e poi c'è il rischio che insomma non non la troverete più io vi ringrazio per l'ascolto resto a vostra disposizione per qualsiasi dubbio chiarimento in merito vi auguro un buon sabato e buon halloween a tutti ciao